Come tutte le novità, anche il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a Monti Catini Terme, attivo dallo scorso 3 ottobre, ha portato con sé anche alcune polemiche, soprattutto per quanto riguarda la collocazione dei nuovi cassonetti per la raccolta differenziata. Infatti, come è noto adesso, coesistono due sistemi di raccolta, le aree centrali, servite con un sistema ibrido di raccolta, porta a porta e contenitori ad accesso controllato con chiavette elettronica. Diverse invece le modalità per le strutture ricettive e residenti in aree collinari, come precisa l'assessore alle politiche ambientali Emiliano Corrieri. Le utenze domestiche avranno per l'85% dei cittadini, avranno il sistema ibrido, che saranno porta a porta, carta e cartone e multimateriale, dunque plastica e alluminio. Invece postazioni stradali per umido, indifferenziato e vetro. Per le località di Nievole, Monticatini Alto e Biscolla ci sarà il PAP integrale, che è il porta a porta integrale. Per le utenze invece non domestiche, dunque ristoranti, bar, alberghi e così via, c'è in tutto il territorio comunale il PAP integrale, dunque la raccolta differenziata porta a porta. Il nostro obiettivo è portare dal 30% al 70% in pochi annetti, in un annetto e mezzo spero di poter raggiungere questo obiettivo. C'è in città un po' di polemica sul posizionamento dei cassonetti che stanno occupando diversi posti auto. Era l'unica soluzione questa? Allora Monticatini Terme ha circa 2000 posti blu, di questi 2000 posti blu il 45% di questi posti è in fruttifero, va a perdita per quanto riguarda la società. Dunque renditi conto noi abbiamo levato 26 posti, qui c'è la delibera del 4 di novembre, abbiamo 26 parcheggi stalli blu, dunque renditi conto è l'1% degli stalli a Monticatini, dunque è una polemica che non sta in piedi. Nell'occasione Corrieri ha annunciato anche la prossima realizzazione del nuovo piano della sosta. Proprio per levare un bel po' di posti blu a Monticatini che sono in esubero e rirenderli quello se hai residenti e fare anche qualche stallo bianco che necessita in città.